L'incidente questa mattina verso le 7 tra due auto a Bagnoli di sopra nella bassa padovana, tre i feriti, a scontrarsi due automobili lungo via Vittorio Emanuele. Nella carambola uno dei due mezzi è finito nel piccolo canale di irrigazione che costeggia la strada. L'altra vettura ha impattato invece contro un platano sul ciglio della carreggiata. Nonostante le contusioni riportate tutti e tre i feriti sono riusciti ad uscire dai mezzi da soli e sono stati soccorsi dai sanitari del Suam 118 che li ha trasferiti in ospedale a Schiavonia in codice giallo. Per mettere in sicurezza i mezzi e l'aria sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e di Piove di Sacco con quattro automezzi tra cui l'autogru. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente.